Ciao a tutti e ciao a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo video Questo è un velocissimo video, siamo appena arrivati dal mare Che bello il mare, hai agitato ma... Ecco, perciò siamo tutti un po' così Però... Dobbiamo fare l'estrazione del video di Gadget for Entertainment Dove si vince una con lana luminosa E allora, ho preparato già tutto Qui c'è il video E... Vi faccio vedere se no... Oh, perdono Oh, mamma mia, che ricca mio Ecco, questo è il video, vedete? Notate dal titolo E guardate sotto che ci sono scritti Ci sono 512 commenti, poi vi avvicino E l'estrazione verrà fatta su random.org Ok, come potete vedere Ci dovrebbero essere 512 commenti Cioè scritto da qualche parte qui Adesso su random.org Sorella, aiutami Qui dobbiamo scrivere 512 512, scrivi Generate Numero Vincente E... Non vinco a nessuno 422 Adesso vediamo un po' se Questa persona ha messo mi piace E ha fatto tante altre cose Sono abbronzata No... E poi riprendiamo E la vincitrice, sorella, annunciala E questa qui... Come si chiama? Non lo so Si chiama... Teresa Speranza Ok... Cosa vuole vincere? Cosa vuole vincere? Vediamo subito... La collana a cuore di Kida Ok, perfetto Allora contattaci Per... Per conoscere Contattaci Per comunicarci Il tuo indirizzo Così che possiamo Darglielo... Girarlo a Gadget for Entertainment Per ricevere il tuo regalino E basta Niente, questo è tutto Questo è il giveaway Partecipate anche ad altri giveaway Che sul nostro canale Si presenteranno Successivamente Successivamente, sì E quindi... Nulla Basta E seguitesi sempre In tanti Ciao E non mancate su Instagram e Facebook Per altri fantastici giveaway Ciao Ciao